sono entrato in Spindox nel 2013 eravamo circa otto persone dopodiché abbiamo preso questa nuova sede alla mia esperienza in Spindox nasce nel 2013 e da subito in Spindox ho avuto l'opportunità di andare a lavorare su nuovi progetti e quindi espandere quelle che erano le mie competenze sono laureata in storia dell'arte questo non è stato un limite nel mio percorso lavorativo in Spindox ho trovato persone che hanno apprezzato le caratteristiche sia dell'aspetto umanistico che quello più specifico tecnico in Spindox ho conosciuto persone eccezionali sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano è un tratto distintivo di Spindox rispetto ad altre realtà è appunto questo di dare valore all'essere umano non come risorsa ma come persona Spindox è adattamento, cambiamento, versatilità personalmente Spindox rappresenta il trampolino di lancio, il punto di partenza nel mondo che mi ha sempre appassionato ovvero l'information technology da Milano a Roma porterei la frenesia che si crea quando c'è da fare tante cose insieme di Roma porterei su a Milano oltre il sole logicamente porterei anche l'ambiente affettivo che unisce le persone presenti in sede a Milano a Roma porterei